Election Day in Campania, il punto della situazione su come si vota. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini sono chiamati alle urne per rispondere al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per eleggere il governatore della regione ed il consiglio regionale. Gli elettori potranno recarsi ai seggi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare è necessario aver raggiunto la maggiorità e presentare un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. Per quanto riguarda il referendum le opzioni all'urna sono due. Segnando il sì gli elettori acconsentiranno alla riforma costituzionale del numero dei parlamentari che passeranno da 630 a 400 per la Camera e da 315 a 200 per il Senato. Segnando il no non acconsentiranno a tale modifica lasciando invariata la carta costituzionale. In Campania i cittadini sono chiamati ad eleggere il presidente della regione ed il consiglio regionale. Nell'urna potranno votare direttamente per il candidato governatore che verrà eletto con la maggioranza dei voti. Non è previsto quindi alcun ballottaggio. È possibile segnare con una croce la lista del candidato ed il nome. Nel caso in cui si segni solo la lista il voto passerà direttamente anche al candidato ma è possibile il voto disgiunto. Quindi segnare la lista ma anche il nome di un candidato non legato ad essa. In questo caso entrambi i voti restano validi. Per i consiglieri regionali sarà possibile esprimere fino a due preferenze scrivendo il nome dei candidati nell'apposito spazio nella scheda. Tuttavia se si esprimono due preferenze i candidati nominati devono essere di sesso differente quindi un uomo e una donna. Ricordiamo che qualunque simbolo diverso dall'X renderà la scheda nulla. Non sono ancora chiare al momento le disposizioni anticontagio previste per i seggi. Sicuramente gli elettori dovranno arrivare alle urne indossando la mascherina e preferibilmente dei guanti dal momento che dovranno toccare documenti e schede elettorali. Dubbi invece sulla sanificazione degli ambienti, del mobilio e dell'attrezzatura, soprattutto riguardo alle matite che saranno passate in mano in mano tra gli elettori. È stato invece confermato che fuori ai seggi gli agenti incaricati dovranno far rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Verranno anche create corsie preferenziali per far accedere cittadini maggiormente a rischio, come anziani al di sopra ai 65 anni e persone cagionevoli o malate. In questo caso verranno accompagnati al seggio di appartenenza superando le file che si potrebbero venire a creare alle porte.